Il 7 maggio si festeggia Sant'Agostino Roscelli, il fondatore delle nostre suore. Conoscete la sua storia? Tanto tempo fa, pensate più di 200 anni fa, Agostino nasceva a Bargone, un paesino di campagna, proprio vicino alla nostra città. La sua famiglia era povera e lui, ancora bambino, si doveva occupare delle pecore di famiglia. Si dedicava alla sua istruzione il parroco del paese, che gli insegnò a leggere, scrivere. Ben presto Agostino decide di diventare sacerdote, perché aveva capito che la cosa più importante per lui era aiutare chi era in difficoltà, era donare amore. Appena diventato prete, proprio a Genova, si dedica subito ai più deboli e bisognosi, negli orfanotrofi, nelle carceri e con i malati. In particolare aiuta le ragazze sole, povere, meno fortunate. Insegna loro a leggere, scrivere e a fare tanti lavori. Alcune di loro vogliono seguire il suo esempio e chiedono di poter dedicare la loro vita agli altri. Così don Agostino fonda le suore dell'Immacolata. Per tutte queste cose è stato dichiarato santo. E da allora le nostre suore, nelle nostre scuole e nelle missioni, si impegnano a educare e istruire i bambini, i ragazzi, con lo stesso amore che Agostino ci ha insegnato.